Per i primi cristiani la predicazione della penitenza quaresimale appariva una lieta notizia perché in sostanza si predicava il perdono dei peccati. Quindi, data la cultura del tempo che considerava Dio sempre quanto a condannare e a punire, invece il Dio presentato da Gesù è sempre pronto a perdonare le nostre colpe. Dio viene incontro all'uomo perché è pieno di tenerezza e di compassione, paziente e infinitamente misericordioso. Ai primi uomini mancava il concetto di Dio misericordioso ed è stato Gesù che ce lo ha rivelato. San Giovanni Battista predicava il regno di Dio è vicino, fate penitenza e credete alla buona novella. Il pensiero che Dio si sarebbe rivelato nel suo amore e avrebbe liberato dalle colpe riempiva di gioia e commozione il popolo di Dio. Per noi moderni non è una novella una notizia straordinaria perché è insito in poco nella nostra cultura. Il pensiero che bisogna iniziare un cammino di penitenza non è entusiasma perché bisogna liberarsi di qualcosa a cui si è legati. Quindi mentre anticamente la quaresima era fonte di gioia perché toglieva il peccato a noi e perché è contrario, è piuttosto a spirito di penitenza perché dobbiamo liberarsi da tante cose inutili e a cui magari siamo legati. Il nostro atteggiamento nella quaresima tempo di riflessione e di decisione è avere la testimonianza di due personaggi del Vangelo sott'occhio, quelli di Giuda e quelli di Pietro. Giuda riconosce il suo peccato e va a confessarsi, cioè riconosce il suo peccato, ritorna indietro sui suoi passi e getta al tempio quei trenta denari, cioè si pende del malefatto, però non si redime, non chiede perdono e va alla tragedia della morte. Invece Pietro, e sta lì in mezzo alla folla, non pensa di incontrare Gesù, non pensa di vederlo così sofferente e i suoi occhi incontrano quelle di Gesù e scoppia a piangere. Non hai tempo neppure di chiedere perdono, esce fuori e piange. Giuda riconosce il suo peccato e va a confessarsi, ho peccato ho versato il sangue innocente, ma si ferma lì e la sua situazione la vede senza perdono e va a impiccarsi. Pietro guarda Gesù e il suo sguardo si incrocia con lo sguardo sofferente di Gesù. Non pensa più al suo peccato, ma piange e soffre a vedere Gesù, che lui ama nonostante i suoi sbagli. Non siamo degni di essere chiamati figli di Dio, non tanto se siamo osservanti delle regole religiose, ma perché abbiamo la certezza che Dio ci ama. La forza della nostra fede non è tanto le tante preghiere, i tanti colpi di pugno sul petto, ma la certezza Dio mio io ti amo, con tutti i miei sbagli io ti amo e Dio questo cerca da noi, il grido di amore. La nostra vera gioia è essere certi che nonostante le nostre debolezze Dio ci ama. L'uomo può stare senza Dio, ma Dio non può stare senza l'uomo. Un figlio può dimenticare, rinnegare il padre o la madre, ma un padre e una madre non rinnegano mai un figlio. E quant'anche una madre dimenticasse il proprio figlio, io non ti dimenticherò, dici il Signore. Dio ci ama prima che noi l'amiamo, senza che noi l'amiamo. Ci ama anche se abbiamo peccato contro di Lui. Grazie. 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 Grazie.